Al via la nuova edizione di Wikilovs Puglia, la declinazione pugliese di Wikilovs Monuments, il più grande concorso fotografico al mondo organizzato da Wikimedia Italia, che favorisce la documentazione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale italiano, aiutando ad arricchire il grande archivio fotografico libero collegato a Wikipedia. Dal 1 al 30 settembre fotografi amatoriali e professionisti potranno dunque partecipare al concorso gratuitamente, caricando le proprie foto su Wikimedia Commons. La nuova edizione di Wikilovs Monuments in Puglia, così come in Italia, sarà organizzata intorno a un argomento comune. Protagonisti saranno i castelli e le fortificazioni, che, grazie alla collaborazione con l'Istituto Italiano dei Castelli, saranno fotografabili per la prima volta e andranno ad arricchire l'enciclopedia online più grande al mondo, favorendo la diffusione all'estero della cultura italiana e dell'immenso patrimonio nostrano. Negli anni sono stati raggiunti importanti risultati. Nel 2021 Wikilovs Puglia ha conquistato i primi due posti della classifica nazionale. Il concorso ha registrato anche una grande partecipazione in termini di volume. Più di 2.800 fotografie sono quelle che Wikilovs Puglia fornisce gratuitamente e liberamente a Wikipedia. In Puglia ci sono 971 monumenti che possono essere fotografati, tra cui i castelli. Quest'anno Wikilovs Puglia propone le Wikigite, otto passeggiate fotografiche, alla scoperta di alcuni comuni pugliesi, con l'obiettivo di stimolare e invitare i cittadini a documentare, riprodurre e condividere le fotografie del nostro patrimonio culturale. È un concorso fotografico che è organizzato a livello internazionale in più di 50 paesi, in Italia da Wikimedia Italia dal 2012 e anche in Puglia come edizione regionale. È possibile caricare tutte le fotografie di monumenti, e nonché quest'anno anche fortificazioni e castelli, e aiutarci, caricando le immagini con licenza libera, a illustrare Wikipedia e a promuovere online il patrimonio culturale pugliese favorevendo la più ampia circolazione delle fotografie dei monumenti.